la tombola non tramonta mai anzi in tempo di crisi attira più di prima se ne ha avuta una conferma lodi in occasione della grande tombolata organizzata dalla proloco per festeggiare il compleanno della città in piazza della vittoria si sono ritrovati centinaia di lodigiani e non attirati dei premi messi in palo dagli organizzatori tra un'estrazione l'altra si è fatto spazio con ormai abitudine da qualche anno ai quesiti riguardanti la storia e la cultura della città anche in questo caso da ogni risposta esatta è corrisposto un regalo fornito dagli sponsor della manifestazione inutile dire però che l'attenzione di tutti è stata catalizzata dal grande riquadro disposto sul palco del comune qui minuto dopo minuto sono stati scoperti numeri sorteggiati da due miss in costumi lodigiani dopo terno quaterne cinquina ecco alle 22 30 il premio più ambito la tombola da mille euro in contanti l'assegno siglato dal presidente della proloco è andato quest'anno a sara spesi varesina trasferita lodi da una quindicina d'anni la serata è poi proseguita con l'aggiudicazione di altri premi minori grazie a tutti